L'ultima puntata di questa lunghissima quinta edizione del Grande Fratello Vip non poteva non riservare tanti colpi di scena. Il conduttore ha aperto l'ultimo televoto flash tra Jessica Selassie e Davide Silvestri. Successivamente si sono recati nel giardino della casa di Cinecittà per rivivere le emozioni vissute al GF Vip guardando delle clip. Jessica e Davide hanno spento le luci della casa di Cinecittà prima di raggiungere lo studio. Invece Alfonso Signorini ha ringraziato tutte le trasmissioni, i giornali che hanno parlato del GF Vip e tutti coloro che hanno seguito il reality. Ad aggiudicarsi la vittoria del Montepremi finale del reality show è stata Jessica Selassie, la concorrente favorita da tutti i sondaggi. Ovviamente una delle sorelle Selassie ha gioito dopo aver vinto la sfida finale contro Davide Silvestri. Infatti parecchio emozionata non è riuscito a trattenere le sue lacrime. Siete contenti? Scrivetelo nei commenti. Sì.